Musica Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie, buon 2 giugno a tutti voi. Oggi festa della Repubblica per il Verbano Cusiossola, la celebrazione provinciale questa mattina sul Lungolago di Verbania Pallanza. Musica 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 Una celebrazione del 2 giugno che non poteva non chiamare in causa le circostanze attuali, uno sguardo al passato, le difficoltà da cui stiamo uscendo e le risorse messe in campo, come ha ricordato il Capo dello Stato, che ci consentono di guardare con più fiducia al futuro. Si, nel suo messaggio il Presidente della Repubblica ha proprio toccato questi temi che lei ricordava. Ha parlato del periodo lungo, travagliato e sofferto che abbiamo tutti passato e ha reso omaggio alle vittime purtroppo di questo bruttissimo periodo e poi ha toccato il tema, quello attuale, della ripresa economica che fortunatamente gli ultimi indici danno in decisa ripresa rispetto anche a quelle che potevano essere le prime visioni. Quindi confidiamo nella forza del nostro Paese, nella forza delle nostre genti e il 2 giugno è una festa di popolo, è la festa di tutti gli italiani per proseguire nel progresso e nel miglioramento e superamento totale di questo periodo così drammatico. Il Sindaco Silvia Marchionini ha fatto riferimento nel suo intervento alla necessità in questa fase di mobilitare in uno sforzo comune l'intera collettività. Il momento è decisivo perché il Paese sta uscendo da questi 16 mesi molto complicati e difficili per le vite di ognuno di noi e quindi nel ricordo di che cosa è stato e delle vittime insieme a chi ha lavorato per affrontare l'emergenza c'è oggi il presente e il futuro da costruire proprio nel 75esimo anniversario della festa della Repubblica richiamare in un sentimento di unità una fiducia verso le istituzioni che devono dare l'esempio saper spendere bene i soldi che arriveranno e mobilitarci anche per superare le disuguaglianze che purtroppo ne sono nate. Ogni cittadino deve il più possibile sentirsi protagonista di questa fase che significa una ripresa e una riapertura delle attività soprattutto per le imprese e per la vita di ognuno di noi. E tra gli interventi anche lo vedete quello del presidente della provincia del VCO Arturo Lincio infine il prefetto con i sindaci interessati hanno consegnato le medaglie d'onore ai cittadini deportati o internati nei lager nazisti le medaglie d'onore sono andate a Franco Borgazzi nato a Caprezzo il 18 maggio 1916 catturato a Roma ed è portato nei campi di lavoro Sassoni e Polacchi dall'11 settembre 43 al 7 giugno 45 la figlia Mirella Borgazzi ha ritirato la medaglia consegnata dal prefetto Sidoti con il sindaco di Caprezzo Pierangelo Ballardini e poi a Mario Ramoni nato ora il 1 ottobre 1921 il 14 novembre 1977 è stato insegnato della croce al merito di guerra è stato deportato in miniera di carbone nella regione tedesca di Westfalia dall'11 settembre 43 al 26 settembre 45 la figlia Adriana Ramoni ha ritirato la medaglia consegnata dal prefetto con il sindaco di Santa Maria Maggiore Claudio Cottini e poi medaglia ad Aldo Tassin nato a Feltre in provincia di Belluno il 6 marzo 1920 ha combattuto al fronte greco albanese e al fronte jugoslavo è stato deportato in bassa Sassonia dalla 9 settembre 43 al 25 aprile 45 il figlio Ezio Tassin ha ritirato la medaglia consegnata dal prefetto e dal sindaco di Verbania Silvia Marchionini e ancora continuiamo con le medaglie d'onore che sono state consegnate questa mattina Noè Valbusa nato a Somma Campania in provincia di Verona il 30 giugno 1917 è stato deportato in lavoro 4 civile presso un'azienda agricola Sita Adurac in Baviera dal 9 settembre 43 al 25 aprile 45 la figlia Carla Valbusa ha ritirato la medaglia consegnata dal prefetto Sidoti e lo vedete dal sindaco di Stresa Marcella Severino e anche Arona ha celebrato la festa della Repubblica 75esimo anniversario anche della Costituzione italiana in piazza Alpini d'Italia l'alza bandiera e la deposizione di una corona dall'oro da parte del gruppo degli Alpini in congedo la cerimonia è proseguita con i discorsi di rito il sindaco Federico Monti che ha citato un momento importante per la democrazia e per l'intera Italia è seguito l'intervento del Presidente del Consiglio Comunale Ferruccio Cairo e della rappresentante della provincia di Novara Moni Amazza Nino Caputi, Presidente dell'Ampi di Arona ha ripercorso alcune tappe di 75 anni fa poi ha lasciato la parola alla Vice Presidente Provinciale dell'Ampi Lucia Caruso che ha ricordato l'importante ruolo delle donne nella stesura della Costituzione nella partecipazione alla lotta partigiana ha chiuso la serie di interventi l'On. Alberto Gusmeroli Vice Sindaco della città di Arona erano presenti i rappresentanti delle forze militari carabinieri, polizia stradale, finanza, esercito e marina in congedo presente pure il parroco Don Claudio Leonardi debitamente distanziato indossando la mascherina almeno 200 persone hanno seguito la cerimonia quindi cerimonia avete visto molto partecipate ma con il distanziamento sia a Verbagna cerimonia provinciale per il VCO che ad Arona ed ora voltiamo pagina siamo agli aggiornamenti sulla funivia di Stresa l'impiego massiccio dei cosiddetti forchettoni durante la corsa della funivia del Mottarone potrebbe avere scaricato una tensione eccessiva sulla fune e quindi potrebbe aver causato la rottura all'altezza dell'attacco del carrello e una delle ipotesi delle numerose ipotesi si apprende dall'ANSA al vaglio dei consulenti della procura di Verbagna che devono fare luce sulla causa dell'incidente del 23 maggio costato la vita a 14 persone gli accertamenti tecnici sono piuttosto laboriosi e richiederanno tra l'altro un accesso all'interno della cabina che è ancora sul posto e che potrà essere rimossa solo con una serie di accorgimenti lunedì è prevista una seconda ispezione i forchettoni sono dei ceppi che impediscono al freno di emergenza di scattare interrompendo la corsa durante il normale orario di servizio debbono essere rimossi ma il 23 maggio sono stati lasciati sulla cabina tre le indagini hanno appurato che questo espediente non consentito era stato adottato diverse volte nel corso del mese e forse anche in precedenza ancora non è insolito che i forchettoni una volta disinseriti restassero posati sul tetto della cabina della funivia del Mottarone quanto si legge nelle carte del procedimento giudiziario avviato dalla procura di Verbania sull'incidente l'emittente tedesca Zedefe ha fatto avere agli inquirenti le immagini realizzate da uno svizzero negli anni passati appassionato di funevie che mostrano le cabine in movimento e ben visibili i forchettoni non è ancora del tutto chiaro però se siano applicate alle ganasce del freno di emergenza una volta rimossi aveva spiegato giorni fa un dipendente ascoltato come testimone i ceppi così vengono anche chiamati tra i lavoratori andrebbero depositati per terra ma per comodità e consuetudine vengono lasciati sulla pedana di ispezione presente sul carrello superiore della cabina e percorrono quindi i vari tragitti insieme ad essa ed ora siamo agli ultimi aggiornamenti locali sul coronavirus con il nuovo bollettino regionale fermi i decessi nel VCO e Novarese per quanto riguarda il Verbano Cusiossola 12 nuovi positivi e 17 guariti nel Novarese 22 nuovi positivi e 46 guariti a livello regionale ci sono 190 i nuovi casi di persone positive al covid pari all'1,4% dei 13.346 tamponi eseguiti sono 4 i decessi registrati e 432 le persone guarite la situazione ospedaliera che continua fortunatamente a migliorare scendono di 2 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Piemonte sono 79 scendono di 15 i ricoverati nei reparti ordinari sono 542 isolamento domiciliare per 3.942 persone ed ora andiamo in Valle Vigezzo a rischio quest'anno il Luna Park a Santa Maria Maggiore il problema è legato alle limitazioni di peso per i mezzi in transito sul viadotto di Gagnone che è interessato da lavori chiesta una deroga al governatore Cirio è una presenza ormai storica quella del Luna Park in Valle Vigezzo con le giostre che da oltre 50 anni animano l'estate di Santa Maria Maggiore Giuseppe e Silvana Sortino nel lontano 1964 portarono nella Valle dei Pittori una nuova opportunità di divertimento che prosegue ancora oggi con i figli e i nipoti dando vita ad un luogo di socializzazione per i residenti e i turisti un attaccamento questo dei giostrai alla Valle che è ricambiato dagli stessi Vigezzini il 25 agosto 2014 il comune di Santa Maria Maggiore ha intitolato il piazzale che ospita le giostre proprio a Giuseppe e Silvana Sortino lo storico Luna Park ha superato i danni dell'alluvione del 1978 e anche l'anno scorso seppur minato dalle restrizioni anti-covid ha però alla fine potuto tornare ad alietare l'estate valigiana ma quest'anno sul suo ritorno a Santa Maria Maggiore pesa l'incognita dei lavori al vidotto di Gagnone avviati da pochi giorni e che limitano il transito ai mezzi di peso superiore alle 25 tonnellate e quindi anche ai mezzi di Luna Park una doccia fredda per i giostrai sui lavori di Anas non abbiamo nulla da recepire ci mancherebbe però la partenza degli stessi ci ha colto di sorpresa senza preavviso bastava averlo saputo qualche giorno prima e saremo saliti subito coi mezzi prima della chiusura spiega Douglas Sortino confidiamo si trovi una soluzione ho già inviato una missiva al presidente della regione Piemonte Alberto Cirio per una deroga ci basterebbero davvero pochi minuti per poter transitare la strada continua Sortino dovrebbe tornare percorriere a fine luglio ma per noi significa perdere la stagione poi penso comunque a tutte le altre attività che ne risentiranno da questa chiusura proprio per il limite di peso ai veicoli in transito spero davvero si trovi più presto una soluzione per tutti ed ora all'intervista Paolo Zanghieri presidente di Domo Bianca 365 che ieri a Domo Dossola ha presentato gli eventi dell'estate 2021 all'Usentino presentiamo oggi il programma 20 eventi è un calendario ambizioso per l'estate 2021 è un primo passo per costruire la stagione estiva nel comprensorio di Domo Bianca come dicevo tante cose i contest sono la natura il food la musica e poi far conoscere quelle che sono stati gli investimenti che hanno caratterizzato il Domo Bianca diciamo un tentativo che si inserisce non solo in un programma di investimenti ma anche in un programma comunicativo organizzativo che ha come obiettivo quello appunto di proporre Domo Bianca con la città di Domo Dossola come una nuova attrazione come un'attrazione anche per l'estate stiamo cercando di lavorare in Domo Bianca ma stiamo cercando di lavorare anche insieme alla città di Domo Dossola e ai comuni a noi vicini quindi un progetto di trekking di bike e di vita dalla montagna che vuole essere un progetto del territorio siamo alla nostra programmazione nuovo appuntamento con l'infinito dentro un bisogno che torna domani alle 18 e ancora venerdì alle 13 alle 21 e 30 sentiamo le anticipazioni una puntata ricca di servizi quella che ci aspetta questa settimana all'infinito dentro un bisogno iniziando con l'editoriale del nostro direttore Caterina Mandarini che ci presenterà l'esito del bando servizi un bando a favore delle progettualità delle associazioni dei territori promosso proprio dal nostro centro la campagna di reclutamento poi per nuovi volontari con l'associazione nazionale vigili del fuoco volontari che oltre a raccontarci appunto le tante attività in cui i volontari sono impegnati ci racconterà anche come avviene la procedura di reclutamento e faranno anche un appello insomma per invitare uomini e donne a intraprendere questa questo percorso di volontariato molto soddisfacente andremo poi da Il Colibri associazione di promozione sociale impegnata in attività ludico ricreative ed educative in particolare in favore dei più piccoli con un'attenzione particolare al loro sviluppo e alle tematiche ambientali di integrazione e di socialità chiuderemo poi con la presentazione del libretto Vecchietti a Chi realizzato dall'Università del Benessere Auser Insieme di Verbagna e un video creato dal prodotto dalla Croce Rossa Comitato di Verbagna che denuncia insomma l'inquinamento da mascherine che sta diventando un problema sempre più grave vediamo una piccola anticipazione di quello che ci aspetta durante la puntata La campagna di urolamento che abbiamo iniziato ormai da qualche settimana ha proprio lo scopo di andare a sviluppare incentivare le risorse nei distaccamenti volontari proprio per migliorare il servizio di soccorso all'interno delle sedi volontarie Vi aspettiamo per questa ricca puntata all'infinito dentro un bisogno Ancora i nostri programmi perché parte su VCO Azzurra TV una nuova trasmissione si chiama Crea TV appuntamento domani giovedì 3 giugno alle 18.30 e ancora alle 23 Benvenuti a Crea TV Più o meno così inizieranno le puntate di Crea TV la trasmissione che parte giovedì e ci racconterà il mondo artistico del VCO Nella nostra scaletta saranno sempre presenti un musicista un'esperienza artistica e un ospite che ci farà fare uno sguardo al futuro Ad esempio in questa prima puntata ci sarà Oscar Badoino che ci racconterà come lui e Nathalie Ghioni stanno organizzando il TEDx del prossimo autunno Per l'esperienza artistica avremo Andrea Legnaioli meglio conosciuto come Lenny che ci racconterà il suo Mr. Bird Infine per quanto riguarda la musica ci sarà Alberto Ricca in arte Bienoise che ci porterà della musica elettronica e anche un video particolarmente bello che secondo me stimolerà qualche riflessione Ci tengo a dire che all'interno di Crea TV ci saranno degli spazi aperti per i giovani artisti del territorio per cui proponete le vostre creazioni artistiche all'interno di un minuto di tempo andremo a completare la trasmissione inserendo appunto questi brevi contenuti artistici prodotti dagli artisti del VCO che vorranno contribuire saremo qui con voi su Azzurra TV il giovedì alle 18.30 e alle 23.05 oppure in replica il venerdì alle 13.30 vi aspettiamo ciao siamo alla pagina sportiva e basket in apertura con la Paffoni che cade 66-63 in gara 2 di semifinale al Pala Moncada Agrigento si complica la strada verso la finale della Paffoni la squadra di Andrea è stata sconfitta anche in gara 2 alla Pala Moncada dalla Fortitudo Agrigento 6-6-63 il finale in un match molto equilibrato in cui Omenia ha dilapidato anche 14 punti di vantaggio arrivati alla termine di un grandissimo primo tempo con le triple di battaglia di Sgoba di Deltesta e di Procacci Omenia in quel momento forse ha avuto il torto di non chiudere definitivamente la partita consentendo così ai siciliani trascinati ancora una volta da un monumentale Andrea Sacaggi autore di 26 punti di rientrare in partita c'è poi stato anche il fattore relativo all'infortunio di Jacopo Balanzoni che proprio in chiusura di primo tempo dopo un contatto sotto canestro ha fatto tremare i compagni e i tifosi un fortissimo dolore alla caviglia si è temuto il peggio poi Balanzoni Claudin Cante è comunque rientrato negli ultimi minuti ma con un contributo nullo rispetto alle sue solite prestazioni dicevamo poi di un secondo tempo in cui Omenia ha sempre comunque tenuto un piccolo margine di vantaggio si è arrivati così a un ultimo quarto da appunto a punto botta e risposta con Sgoba e Rotondo la lungo decisivo però dei padroni di casa ancora con una penetrazione di Saccaggi nel finale poca lucidità da parte della Paffoni che ora è con le spalle al muro la serie si sposta a Verbagna gara 3 in programma venerdì alle 20.30 al Palabattisti la Paffoni ha un solo risultato utile a disposizione la vittoria per allungare la serie e per far sì che si giochi anche gara 4 anche questa in programma eventualmente alla Palabattisti domenica alle 18 il calcio in serie D è tornato in campo oggi il Gozzano vediamo come è andata per noi c'era Daniele Piovera il Gozzano vede ad un passo il ritorno in Lega Pro la squadra di Antonio Sodabatte con pieno merito nello sconto diretto il Bra 3 a 1 lo fa scivolare a meno 9 a meno 7 c'è il Pondonaz solo un suicidio calcistico potrebbe impedire ai Rosso Blu di coronare il sogno e il ritorno appunto in Lega Pro una partita che ha regalato emozioni soprattutto nel finale ma anche nel primo tempo dopo due minuti incomprensione difensiva tra Vagge e Caio De brividi per il Gozzano all'ottavo un episodio chiave Silla indemoniato imbufalitto immaginiamo per insulti a sfondo razzista e razziale da parte di Rossi viene tenuto a braccia dai suoi compagni e viene ammonito dal direttore di gara una furia ci hanno usati già dei precedenti nel match di andato tra i due alla decimo punizione alta di Allegretti al ventiduesimo azione personale di Allegretti la sua puntata da calcetto termina alta davvero di poco al trentanovesimo Cappellupo per Cappelluzzo diagonale a tu per tu con Vagge palla però largamente imprecisa sul ribaltamento di fronte di fatto al trentunesimo il gol del Gozzano rimessa lunga di Caio De la difesa del Bra si fa accogliere in preparata e Silla se ne va mette a sedere Toss e la piazza nell'angolino basso per il vantaggio e il delirio del Gozzano alla quarantunesimo ci prova Tuzza dalla lunga distanza respinge Vagge di Pugni sulla successiva palla poi la girata da parte di Cappelluzzo ancora Vagge di Pugni nel secondo tempo al diciassettesimo Allegretti su assist di Piracini sembra mettere la parola fine al match non è così perché al quarantaduesimo Eurogoal di Campania che riapre i giochi e il Brat troverebbe il 2-2 al quarantaseiesimo il gol però viene annullato a Toss per fuorigioco sempre in recupero al quarantanovesimo fuga di Rao steso da Cappelluzzo che si rimedia la seconda ammunizione dal dischetto va Carvoni per il calcio di rigore gol del 3-1 e può esplodere la festa del Gozzano In chiusura le bocce con il Possaccio che vince il girone e accede direttamente alla Final Four Dicono sia la tenacia e non il talento a governare il mondo ma nel gioco delle bocce dove la precisione è l'unica discriminante e per vincere la tenacia non basta ci vuole anche un bel po' di talento Possaccio Uberalles è proprio il caso di dirlo Sabato 22 maggio ultima di campionato campi della bocciofila Boville a Cava dei Selci presso Marino nel Lazio i campioni d'Italia in carica vanno al riposo sul 3-1 contro Monte Gridolfo stesso giorno campi della bocciofila Oikos a Fossombrone nelle Marche anche Possaccio all'intervallo è in vantaggio per 3-1 in classifica Boville precede Possaccio di due punti 30-28 poi le sfide di coppia nel Lazio Miloro e Manghi della Monte Gridolfo battono Nanni e Palma prima 8-7 e poi 8-2 sull'altro campo Giampaolo Signorini e Paolucci perso il primo set per 8-3 da Di Nicola e Santucci nell'ultimo scontro chiudono sull'8-7 e si prendono un pareggio inatteso che però non li salva dalla retrocessione ma Boville in classifica si ferma a quota a 31 punti nelle Marche Paone e Andreani vanno sotto due volte mai successo contro Cappellacci e Grilli nel secondo set prendono Cappotto tutto rimane affidato alle mani di Roberto Signorini e Giovanni Scicchitano che vincono il primo set per 8-0 sul 4-3 arrivano le belle notizie da Boville per i due scatta l'adesso o mai più vincere significa chiudere al primo posto nel girone evitare playoff e andare direttamente alla Final Four di San Giovanni in Persiceto il 3-4 luglio e così i due del Possaccio stanno sempre avanti 3-1 poi 4-3 poi 5-4 e infine 6-5 nell'ultima mano Giovanni Scicchitano in fila a fondo campo il secondo e decisivo punto è finita 5-3 per i Verbanesi e primo posto nel girone avendo con Boville ottenuto una vittoria e un pareggio nel frattempo la squadra femminile chiude onorevolmente il suo girone al secondo posto giocano ancora i boys va avanti il gruppo della seconda categoria e Possaccio fa grandi risultati anche nella nazionale di sabato 29 maggio per giocatori di B e C a ricordo di Renzo Mazzolini interna chiudono terzi Bergamaschi Giorgetti e Bodi in coppia vincono Mauro Aralossi marito della Giorgetti e Claudia Lomazzi moglie del DS Tosi nell'individuale domina il giovane Lorenzo Porcellati Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale vcoazurativu.it e le nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti grazie per essere stati in nostra compagnia buon proseguimento con i nostri programmi Grazie per la visione Grazie a tutti